Martedì 23 maggio, oggi sono 25 anni che la mafia sanguinaria e bestiale dei Corleonesi ha ucciso i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi di Palermo e del mondo intero. Lei oggi che emozioni provate? Iambi che provate. Che emozioni provate? Che erano i rupini e te sveglia. Mira, che cosa sta organizzando? Sto organizzando una festa contro la mafia, perché diciamo... Io, perché non la posso organizzare, è una festa contro la mafia. Lei si unirà a tutti gli artisti che grideranno no alla mafia? No. C'è lei, scusi, chi vuoi? Ma sto lavorando, guarda i fotografi. Fio, non puoi essere ricchio. No, no, si inizia l'ora. Vai a lavoro. Cioè, è ridicolo una barzelletta. Tu in realtà, perché... Cosa possiamo proporre? Cosa possiamo proporre? Cosa possiamo proporre? Grazie a tutti.